Tutto cominciò quella mattina d'estate a Reykjavík. Ero affacciata alla finestra e guardavo i ghiacci che ci scioglievano e arrivavano a valle. Illuminato dai lati del sole, il ghiaccio brillava come una stella. Mi aveva talmente colpito che il giorno dopo mi sono messa a creare delle opere di vetro massiccio che ricordassero quel ghiaccio là. Dopo aver creato i cilindri mi sono accorta che non erano così brillanti e allora li spolverati. E dopo al pigmento ho aggiunto un po' di trementina. E così ho creato il mio ghiaccio brillante.